Marijuana meno facile nei Paesi Bassi. In futuro sarà necessario avere un certificato di residenza per acquistare droga leggera nei coffee shop e un permesso sarà obbligatorio anche per diventare membro di questi locali, membri solo olandesi d'ora in poi. In questo modo le autorità vogliono impedire il turismo legato alla marijuana. I permessi saranno introdotti dal 1 maggio.